Come annunciato nei giorni scorsi, questa mattina sono arrivati i risultati del terzo campionamento relativo alla verifica sulla presenza dell'alga potenzialmente tossica nella diga dell'Iscione. Il direttore tecnico di Moliseacqua e Berardino Principe ha dichiarato che il prelievo, eseguito venerdì all'altezza del torrino di presa dove avvengono i prelievi per la potabilizzazione dell'acqua, ha accertato che in quel punto non ci sono alghe tossiche. Non c'è pericolo dunque per la salute dell'uomo, ma il direttore Berardino Principe ha anche ammesso che sì ci sono ancora nell'invaso delle chiazze marroni o rossastre, ma che sono irrilevanti ai fini della pubblica incolumità. I pescatori che in questi giorni hanno chiesto se è possibile pescare nell'invaso, al momento restano però senza risposte, perché nessuno finora si è preoccupato di verificare la possibilità di contaminazione della fauna e dunque sotto il profilo della pesca al momento i dubbi restano legati alla presenza più o meno sparsa delle chiazze di alghe ancora visibili, ma in quantità minore rispetto ai giorni scorsi. Le altre due verifiche tecniche sono avvenute infatti il 31 maggio e il 3 giugno scorsi e riscontrarono invece una importante concentrazione di cianotossine causate dalla presenza dell'alga, ma gli esami furono condotti al contrario di venerdì più a valle, quindi solo all'interno dell'invaso. Significa che l'impianto di potabilizzazione, quello che rende l'acqua destinata al consumo umano sicura sotto il profilo della salute, non manifesta la presenza di queste tossine perché i nitrati vengono abbattuti dal cloro, come confermano anche gli esami di questa mattina.